Ciao Crizzetti e ciao Crizzetti e ciao a voi che siete Crizzetti e Crizzette ma non lo sapete ancora e potete diventarlo cliccando iscriviti. Sigla! Sappiate che se non vengo lasciata oggi sono una donna molto fortunata? Vi racconto un aneddoto. Allora ieri sera io ho messo a posto una quantità di libri che uscivano dalle pareti cioè ve lo giuro avevo libri sparsi ovunque tra gli ultimi acquisti tra roba che era rimasta da Natale sullo sgabello perché ne lettura ma non l'ho ancora letta cioè tra il salotto e l'ingresso c'erano delle montagne di libri. C'era il mio ragazzo che poverino non diceva niente, soffrima il silenzio per questa cosa, ieri sera mi sono messo una mano sul cuore e ho risistemato completamente l'intera libreria, tutti gli scaffali cercando di fare ordine, di mettere le cose con un criterio, non ci stanno più quindi a incastrare i libri e oggi giro un video haul di tutti i miei manuali di scrittura creativa. Quindi ho dovuto ritirarli giù tutti io qui, non so quando verranno rimessi a posto, per cui questo era un video su richiesta e per questa richiesta sto rischiando la mia serenità familiare, per cui chi mi aveva fatto la richiesta apprezzi moltissimo tutto questo. Premessa, non credo che quelli che vi farò vedere siano tutti i miei manuali relativi alla scrittura, alla lingua italiana, alla scrittura creativa perché ho fatto un tentativo di razionalizzare anche per sezioni perché la mia libreria è un posto estremamente irrazionale, per cui ce ne saranno sicuramente alcuni su altri scaffali che mi sono sfuggiti. Inoltre non sono tutti materiali assolutamente, non sono tutti libri che uso quando si tratta di organizzare e strutturare dei laboratori di scrittura creativa perché anzi io uso tantissimo i libri d'arte a volte nel corso dei workshop. Quindi in realtà questi sono stati più testi che sono serviti a me per mio interesse personale, per strutturare meglio certe cose sia a livello di lezioni che anche appunto a livello di lavoro personale sui testi. Alcuni sono testi che ho scelto io, altri sono testi che mi sono stati regalati o che mi sono arrivati in qualche strano modo. Ve li farò vedere tutti molto rapidamente dicendo giusto due parole di ciascuno perché sennò viene davvero un video troppo lungo. Tutti i libri che vi farò vedere comunque li trovate qui sotto nell'info box con il link. Se per caso vedete qualcosa che vi interessa e lo volete acquistare e siete abituati ad acquistare online, facendolo attraverso i link che trovate qui sotto tra l'altro mi date una mano perché sono tutti link con l'affiliazione di Amazon. Sono tutte piccole entrate che mi aiutano a sostenere questo canale. Il viaggio dell'eroe ci ho dedicato un video molto di recente, almeno mi sembra di averci dedicato un video molto di recente, ve lo lascio qui nella scheda info. Scrivere è un tic pubblicato da Minimum Fax, molto carino, un libro italiano. Consiglio a un giovane scrittore dice Rami. Questo libro mi è stato estremamente utile, non tanto sulla parte della scrittura creativa in senso lato, quanto su una sezione molto specifica. Allora, tra l'altro questo qua è un libro che io avevo acquistato per obbligo, nel senso che era uno dei testi di studio dell'unico corso di scrittura creativa che io abbia seguito all'università, nella specialistica, nella biennale. Nel programma appunto della mia specialistica in editoria e comunicazione c'era anche un corso di scrittura creativa che è stato molto interessante. E tra i testi consigliati c'era appunto questo di Cerami. Mi è stato utilissimo, dicevo, in una maniera insospettabile perché conteneva all'interno anche una sezione dedicata alla scrittura come parolieri, cioè alla scrittura dei testi per le canzoni. Attività che io ho fatto e che mi capita a volte saltuariamente ancora di fare per degli amici musicisti, solo che ovviamente all'inizio non avevo idea di da dove cominciare e questo test è stato un validissimo aiuto perché insegna proprio un metodo molto semplice che può essere applicato in qualsiasi lingua e che effettivamente dà una grossa mano. Più che altro dà una grossa mano anche per chi non ha una preparazione musicale particolare ad affinare la sensibilità sugli accenti del verso e a riuscire a metterli in corrispondenza con gli accenti delle parole. Non so se esistono testi più specialistici proprio su quella materia specifica però anche nella breve sezione che era dedicata a questo per me è stato utilissimo. The Elements of Eloquence, questo è un libro che avevo comprato a Londra, sì, sì l'avevo comprato a Londra tipo nella classica puntata della libreria di Notting Hill. È un libro sulle figure dettoriche, è un libro in inglese, tra l'altro un inglese molto specialistico quindi ve lo consiglio solamente se conoscete bene l'inglese ed è interessante perché dà un po' un'idea del come viene insegnata la scrittura creativa nel mondo anglosassone che ha un concetto molto diverso rispetto al nostro in realtà. Credo di aver dedicato un video anche a questo argomento, nel caso lo ritrovassi ve lo lascio qui nella scheda info. Questo è fondamentale, lezioni americane di Italo Calvino, che ve lo dico a fare? Ve lo devo presentare? No, dai, questo è la Bibbia. Breve storia della lingua italiana, anche questo è un testo universitario ma che ho conservato poi nella manualistica della scrittura creativa perché è interessante da quel punto di vista per me. Qua ho tre librettini più piccoli. Come parlare di un libro senza averlo mai letto? Utilissimo. Come raccontare una storia e l'arte di mentire di Mark Twain che in realtà è una piccolissima raccolta di estratti da Mark Twain. E questo? No, questo non c'entra assolutamente nulla, non so perché si è finito qui. L'ordine, l'ordine nella mia libreria ragazzi, cioè c'è finito un racconto di Cervantes in mezzo. Ah, questo adoro. Morfologie della fiaba di Prop che sicuramente vi ho già fatto vedere, di cui vi ho già parlato in tutte le sarse. È un testo che per me è stato ed è utilissimo. Utilissimo sia per quanto riguarda i corsi dissenati agli adulti che anche proprio sul ragionamento, sulla costruzione delle storie. Molto specialistico, però molto interessante. Qua ci sono un paio di eserciziari, diciamo. Questo qua credo che fosse scolastico, secondo me me l'aveva dato mia mamma che è un'insegnante. E questo invece è quel 642 idee per scrivere dell'ippocampo, di cui vi ho parlato in un video recente, quindi vi rimando a quel video. Questo qua è una figata, lo sto usando tantissimo. Ah, questo è di Feltrinelli Kids. Scrivere bene è un gioco da ragazzi. È utile se magari fate anche dei laboratori con i ragazzi, se fate attività di gruppo con i ragazzi, eccetera. Qui ci sono due testi relativi al giornalismo, alla scrittura giornalistica. Questo è di Giorgio Bocca, è la stampa bellezza, che a me era piaciuto un sacco. Non so se avevo dedicato un video anche a questo, nel caso ve lo lascio anche lui nella scheda. E questo qua, che era a sua volta un testo universitario. Nascita vita e morte della notizia di Mario Bottaro, perché Mario Bottaro, che è un giornalista qui genovese, era un mio professore. Era molto pratico, fatto bene questo libro. Poi Carver, il mestiere di scrivere. Anche questo contiene una serie di esercizi un po' ripetitivi in alcune cose, però interessanti nella costruzione. E poi questo, che praticamente l'ho distrutto, perché l'ho riletto un po' di volte, i feri del mestiere di Fruttero Lucentini. Carinissimo, tra l'altro sottotitolo manuale involontario di scrittura con esercizi svolti. Ora, chiaramente, a meno che non teniate i lavoratori di scrittura creativa, non vi serve possedere tutta questa collezione. Cerco di fare una cernita mentale di quello che vi può effettivamente servire se scrivete. Che cos'è che è proprio indispensabile di questi per qualcuno che ama scrivere, ma che però non è una roba di lavoro, ma è una roba di interesse personale. Cerco di selezionare, eh. Eh, vabbè, questo sì. Eh, vabbè, questo sì. Eh, vabbè, sì, 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 sì. Allora, se proprio non dovessimo fare a meno di quattro libri, di meno non riesco, Calvino e le lezioni americane, come vi dicevo l'altra volta, è ultra pratico e ultra semplice questo, il viaggio dell'eroe, vi dà un'idea chiarissima di quella che è la struttura delle storie. Se volete scavarci un po' più a fondo, la morfologia della fiaba è naturalmente Campbell, che però non ce l'ho in versione cartacea. E se volete sbizzarrirvi questo qui, delle 642 idee per scrivere, che tra l'altro ho visto che qualcuno di voi l'ha acquistato, perché nel mio gruppo Facebook, che è il Covo del Crizzetto, qualcuno mi ha postato una foto sul fatto che stava incominciando a svolgere i racconti di questo libro. Tra l'altro è una foto bellissima, con tutti i tipo di evidenziatori colorati, penne colorate, con un ordine, con una precisione, con una disposizione spaziale degli oggetti e dei colori deliziosi, una scala cromatica che io nella vita non avrò mai, quindi ti invidio tanto. Vado a provare a riporre questa pila di cultura all'interno della mia straziata libreria. Per oggi io vi saluto e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao! Ciao!